Tutto pronto per l'inizio di questa ultima giornata prima della sosta natalizia in Serie che vede affrontarsi la stella Artois e le meringhe, subito ci prova a schioppo ad aprire il match Pelliccio al volo calcia, pallone alto di poco Francesco Pelliccia col mancino, arriva la rete del vantaggio delle meringhe sul calcio di punizione Calcio di punizione per la stella Artois, Puzzo a giro, pallone sul fondo Costanza in diagonale, Pelliccia poi schioppo libera Del Prato, del Prato, riparte, va da solo, del Prato può calciare col mancino Antonielli mette in corner La conclusione di Dabuzzo, alta Punizione di Pelliccia, si valla fuori di poco Finisce qui il primo tempo sul punteggio di 1-0 in favore delle meringhe E' iniziato il secondo tempo del match, trame e ringhe e Stella Artois Il punteggio sorride ai bianchi Decide il gol di Pelliccia su punizione Fin qui il match è comunque equilibrato, avaro di emozioni Vediamo se non la ripresa Saranno più emozioni, subito prova l'Eurogold a Puzzo, per poco non la trovo Mi sentiva male Conclusione di Dabuzzo, la grande risposta di Antonielli Per portare i suoi in parità Dal dischetto Va da Puzzo, la trasformazione arriva all'1-1 Match riaperto Si Si Dai Marco continuiamo con ci Scusa c'è a me Lì è il gol Mirelli Carpino Anzi il Ecco Mirelli col giro del drogone È arrivato Carpino per il 2-1 di sorpresa Si addormenta la difesa del Meringhe Il 2-1 Da Puzzo il diagonale Pallone sul fondo Da Puzzo Da Puzzo calcio Antonielli con i pugni Da Puzzo Da Puzzo Dentro Costanza Che gol Per il 3-1 Per il 3-1 Della Stella Artois Gran numero di Costanza Sul assist geniale di Dabuzzo Arriva alla rete del 3-1 Carpino Siglata da Costanza Palla dentro uno schema All'1-2 Che non si chiude Andare in controviete Carpino Salta Pelliccia Scarica per botta La può chiudere Botta Sotto la traversa Il 4-1 finale Siglata da Botta Chiudono con una vittoria Questo è il 2013 Grazie Se l'altro del 3-1